segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te nella mia regione gli abusi sono soprattutto lungo la fascia costiera in alcuni posti dove si sono sono state edificate delle seconde case quindi in quel caso non c'è nemmeno il problema del diritto all'abitazione della prima casa stiamo governando comunicando ai cittadini che su questo tema sull'ambiente c'è tolleranza zero guardi io la mia regione sono contento perché per la prima volta è stata la regione che ha avuto meno ingenti ho messo pessino i droni a beccare i piromani abbiamo fatto un lavoro straordinario sulla depurazione anche lì ho ereditato una regione dove ci sono tanti agglomerati urbani che non sono collettati alla rete fognaria e su questo stiamo mandando i carabinieri stiamo mandando l'ARPAC a verificare ha fatto molti amici il mio modo di procedere guardi è questo secondo me chi governa deve fare anche quello che è impopolare perché se è giusto poi diventerà popolare cioè quando quando io tollero il collettamento abusivo il fatto che non ci siano abitazioni collettate e poi in alcuni tratti del bellissimo mare della Calabria o il mare inquinato quello di quello diventa un fatto impopolare per cui io devo io devo fare quello che è giusto anche se impopolare perché sono convinto che poi diventerà popolare grazie aspetti allora ancora grazie a tutti